I carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo insieme alla locale stazione dei carabinieri di Mazzarino e coadjuvati dalle guardie zoofile del WWF, durante un ordinario servizio di controllo sul regolare esercizio dell'attività venatoria e di contrasto del fenomeno del bracconaggio, hanno sorpreso sette soggetti intenti a cacciare all'interno del sito Natura 2000. L'area di notevole interesse naturalistico, in quanto comprende una serie di ambienti molto eterogenei tra loro, è stata inserita tra quelle destinate alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. All'interno di queste aree la tutela della vifauna avviene non soltanto attraverso la protezione delle popolazioni presenti, ma anche dei loro habitat naturali. Pertanto la pratica venatoria risulta estremamente regolamentata sia per i periodi sia per le specie cacciabili e soprattutto per la limitata pressione venatoria consentita. Annualmente infatti la regione siciliana individua tra i soggetti in possesso dei requisiti e che abbiano fatto domanda entro i termini alcune decine di cacciatori autorizzati a praticare la caccia all'interno dell'area. I soggetti identificati dai militari, alcuni dei quali provenienti da altre province siciliane, sono risultati tutti sprovvissi dei titoli autorizzativi. Inoltre la caccia all'interno dell'area si sarebbe dovuta praticare entro il 31 dicembre, pertanto anche laddove fossero stati autorizzati non avrebbero potuto esercitare la pratica venatoria. In alcuni casi i soggetti identificati non avevano annotato la giornata di caccia sull'apposito tesserino e in un caso è stato accertato l'utilizzo di strumenti non consentiti. Nella fattispecie un richiamo acustico elettromagnetico condotta a quest'ultima costituente violazione penale. Sono stati inoltre posti sotto sequestro sette fuggili, il relativo munizionamento e il dispositivo elettronico di richiamo vietato. Tutti i soggetti sono stati identificati e denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria.